La tua vita si sta spegnendo Se non condividi con gli altri le tue ricchezze interiori ed esteriori, la tua vita si sta spegnendo Se la tua mente smette di ricercare e si fissa solo sul passato, la tua vita si sta spegnendo Se per te tutto ciò che esiste o avviene in te ed attorno a te è il frutto del caso, la tua vita si sta spegnendo Riaccendila prima che sia troppo tardi Grazie